Sì, quel che ho da dire è che sono innocente, non soltanto del delitto di Brain Tree, ma anche di quello di Bridgewater, che non soltanto sono innocente di questi due delitti, ma che in tutta la mia vita non ho mai rubato, né ucciso, né versato una goccia di sangue. Questo è ciò che voglio dire, e non è tutto. Non soltanto sono innocente di questi due delitti, non soltanto in tutta la mia vita non ho rubato, né ucciso, né versato una goccia di sangue, ma ho combattuto anzi tutta la vita da quando ho avuto l'età della ragione per eliminare il delitto dalla terra. Queste due braccia sanno molto bene che non avevo bisogno di andare in mezzo alla strada a uccidere un uomo per avere del denaro. Sono in grado di vivere con le mie due braccia e di vivere bene. Anzi, potrei vivere anche senza lavorare, senza mettere il mio braccio al servizio degli altri. Ho avuto molte possibilità di rendermi indipendente e di vivere una vita che, di solito, si pensa sia migliore che non guadagnarsi il pane col sudore della fronte. Mio padre in Italia è in buone condizioni economiche e potevo tornare in Italia ed egli mi avrebbe sempre accolto con gioia a braccia aperte. Anche se fossi tornato senza un centesimo in tasca, mio padre avrebbe potuto occuparmi nella sua proprietà, non a faticare ma a commerciare o a sovraintendere alla terra che possiede. Egli mi ha scritto molte lettere in questo senso ed altre me ne hanno scritte i parenti, lettere che sono in grado di produrre. Certo, potrebbe essere una vanteria. Mio padre e i miei parenti potrebbero vantarsi e dire cose che possono anche non essere credute. Si può anche pensare che essi sono poveri in canna quando io affermo che avevano i mezzi per darmi una posizione qualora mi fossi deciso a fermarmi, a farmi una famiglia, a cominciare una esistenza tranquilla. Certo, ma c'è gente che in questo stesso tribunale poteva testimoniare che ciò che io ho detto e ciò che mio padre e i miei parenti mi hanno scritto non è una menzogna, che realmente essi hanno la possibilità di darmi una posizione quando io lo desideri. Vorrei giungere perciò ad un'altra conclusione ed è questa. Non soltanto non è stata provata la mia partecipazione alla rapina di Bridgewater, non soltanto non è stata provata la mia partecipazione alla rapina e dagli omicidi di Braintree, ne è stato provato che io abbia mai rubato, ne ucciso, ne versato una goccia di sangue in tutta la mia vita. Non soltanto ho lottato strenuamente contro ogni delitto, ma ho rifiutato io stesso i beni e le glorie della vita, i vantaggi di una buona posizione perché considero ingiusto lo sfruttamento dell'uomo. Ho rifiutato di mettermi negli affari perché comprendo che essi sono una speculazione ai danni degli altri. Non credo che questo sia giusto e perciò mi rifiuto di farlo. Vorrei dire dunque che non soltanto sono innocente di tutte le accuse che mi sono state mosse, non soltanto non ho mai commesso un delitto nella mia vita, degli errori forse, ma non dei delitti. Non soltanto ho combattuto tutta la vita per eliminare i delitti, i crimini che la legge ufficiale e la morale ufficiale condannano, ma anche il delitto che la morale ufficiale e la legge ufficiale ammettono e santificano, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per cui io sono qui imputato, se c'è una ragione per cui potete condannarmi in pochi minuti, ebbene la ragione è questa e nessun'altra. Chiedo scusa, i giornali hanno riferito le parole di un galantuomo, il migliore che i miei occhi abbiano visto da quando sono nato, un uomo la cui memoria durerà e si estenderà sempre, più vicina e più cara al popolo, nel cuore stesso del popolo almeno fino a quando durerà l'ammirazione per la bontà e per lo spirito di sacrificio. Parlo di Eugenio Debs. Nemmeno un cane, egli ha detto, nemmeno un cane che ammazza i polli avrebbe trovato una giuria americana disposta a condannarlo sulla base delle prove che sono state prodotte contro di noi. Quell'uomo non era con me a Plymouth, né con sacco a Boston il giorno del delitto. Voi potete sostenere che è arbitrario ciò che noi stiamo affermando, che egli era onesto e riversava sugli altri la sua onestà, che egli era incapace di fare il male, e riteneva ogni uomo incapace di fare il male. Certo, può essere verosimile, ma non lo è, poteva essere verosimile, ma non lo era. Quell'uomo aveva una effettiva esperienza di tribunali, di carceri e di giurie, proprio perché rivendicava al mondo un po' di progresso e gli fu perseguitato e diffamato dall'infanzia alla vecchiaia, e in effetti è morto non lontano dal carcere. Egli sapeva che siamo innocenti, come lo sanno tutti gli uomini di coscienza, non soltanto in questo, ma in tutti i paesi del mondo. Gli uomini, che hanno messo a nostra disposizione una notevole somma di denaro a tempo di record, sono tuttora al nostro fianco. Il fiore degli uomini d'Europa, i migliori scrittori, i più grandi pensatori d'Europa hanno manifestato in nostro favore. I popoli delle nazioni straniere hanno manifestato in nostro favore. È possibile che soltanto alcuni membri della giuria, soltanto due o tre uomini che condannerebbero la loro madre, se facesse comodo ai loro egoistici interessi o alla fortuna del loro mondo. È possibile che abbiano il diritto di emettere una condanna che il mondo, tutto il mondo, giudica una ingiustizia, una condanna che io so essere una ingiustizia. Se c'è qualcuno che può sapere se essa è giusta o ingiusta, siamo io e Nicola Sacco. Lei ci vede, giudice Tyer, sono sette anni che siamo chiusi in carcere, ciò che abbiamo sofferto in questi sette anni nessuna lingua umana può dirlo, eppure lei lo vede, davanti a lei non tremo, lei lo vede, la guardo dritto negli occhi, non arrossisco, non cambio colore, non mi vergogno e non ho paura. Eugenio Debs diceva che nemmeno un cane, qualcosa di paragonabile a noi, nemmeno un cane che ammazza i polli poteva essere giudicato colpevole da una giuria americana con le prove che sono state prodotte contro di noi. Io dico che nemmeno a un cane rognoso la Corte Suprema del Massachusetts avrebbe respinto due volte l'appello, nemmeno a un cane rognoso. Si è concesso un nuovo processo a Madeiros perché il giudice o aveva dimenticato o aveva omesso di ricordare alla giuria che l'imputato deve essere considerato innocente fino al momento in cui la sua colpevolezza non è provata in tribunale o qualcosa del genere, eppure quell'uomo ha confessato. Quell'uomo era processato e ha confessato, ma la Corte gli concede un altro processo. Noi abbiamo dimostrato che non poteva esistere un altro giudice sulla faccia della terra più ingiusto e crudele di quanto lei, giudice Tyer, sia stato con noi. Lo abbiamo dimostrato, eppure ci si rifiuta ancora un nuovo processo. Noi sappiamo che lei nel profondo del suo cuore riconosce di esserci stato contro fin dall'inizio prima ancora di vederci. Prima ancora di vederci lei sapeva che eravamo dei radicali, dei cani rognosi. Sappiamo che lei si è rivelato ostile e ha parlato di noi esprimendo il suo disprezzo con tutti i suoi amici in treno al club dell'università di Boston, al club del golf di Worchester nel Massachusetts. Sono sicuro che se coloro che sanno tutto ciò che lei ha detto contro di noi avessero il coraggio civile di venire a testimoniare. Forse vostro onore, e mi dispiace dirlo perché lei è un vecchio, e anche mio padre è un vecchio come lei, forse vostro onore siederebbe accanto a noi e questa volta con piena giustizia. Quando hai messo la sentenza contro di me al processo di Plymouth, lei ha detto, per quanto mi è dato ricordare in buona fede che i delitti sono in accordo con le mie convinzioni o qualcosa del genere, ma ha tolto un capo di imputazione se ricordo esattamente alla giuria. La giuria era così prevenuta contro di me che mi avrebbe giudicato colpevole di tutte e due le imputazioni per il solo fatto che erano soltanto due. Ma mi avrebbe giudicato colpevole di una dozzina di capi di accusa anche contro le istituzioni di vostro onore. Naturalmente io ricordo che lei disse che non c'era alcuna ragione di ritenere che io avessi avuto l'intenzione di uccidere qualcuno, anche se ero un bandito, facendo cadere così l'imputazione di tentato omicidio. Bene, sarei stato giudicato colpevole anche di questo? Se sono onesto, debbo riconoscere che fu lei a togliere di mezzo quell'accusa giudicandomi soltanto per tentato furto con armi o qualcosa di simile, ma lei giudice Tyre mi ha dato per quel tentato furto una pena maggiore di quella cominata a tutti i 448 carcerati di Charlestown che hanno attentato alla proprietà che hanno rubato, eppure nessuno di loro aveva una sentenza di solo tentato furto come quella che lei mi aveva dato. Se fosse possibile formare una commissione che si recasse sul posto, si potrebbe controllare se è vero o no. A Charlestown non ci sono ladri di professione, che sono stati in metà delle galerie degli Stati Uniti, gente che ha rubato o che ha ferito un uomo sparandogli. E solo per caso costui si è salvato, non è morto. Bene, la maggior parte di costoro colpevoli senza discussione, per autoconfessione o per chiamata di correità dei complici, ha ottenuto da 8 a 10, da 8 a 12, da 10 a 15. Nessuno di loro è stato condannato da 12 a 15 anni come lo sono stato io da lei per tentato furto. E per di più lei sapeva che non ero colpevole. Lei sa che la mia vita, la mia vita pubblica e privata in Plymouth, dove ho vissuto a lungo, era così esemplare che uno dei più grandi timori del pubblico mistero, Katzmann, era proprio questo che giungessero in tribunale le prove della nostra vita e della nostra condotta. Egli le ha tenute fuori con tutte le sue forze e ci è riuscito. Lei sa che se al primo processo a Plymouth avesse avuto a difendermi l'avvocato Thompson, la giuria non mi avrebbe giudicato colpevole. Il mio primo avvocato era un complice di mister Katzmann e lo è ancora. Il mio primo avvocato difensore, mister Vai, non mi ha difeso, mi ha venduto per 30 monete d'oro come Giuda vendette Gesù Cristo. Se quell'uomo non è arrivato a dire a lei o a mister Katzmann che mi sapeva colpevole, ciò è avvenuto soltanto perché sapeva che ero innocente. Quell'uomo ha fatto tutto ciò che indirettamente poteva danneggiarmi, ha fatto alla giuria un lungo discorso intorno a ciò che non aveva alcuna importanza. E sui nodi essenziali del processo è passato sopra con poche parole o in assoluto silenzio. Tutto questo era premeditato per dare alla giuria la sensazione che il mio difensore non aveva niente di valido da dire, non aveva niente di valido da addurre a mia difesa. E perciò si aggirava nelle parole di vacui discorsi che non significavano nulla e lasciava passare i punti essenziali o in silenzio o con una assai debole resistenza. Siamo stati processati in un periodo che è già passato alla storia. Intendo con questo un tempo dominato dall'isterismo, dal risentimento e dall'odio contro il popolo delle nostre origini, contro gli stranieri, contro i radicali e mi sembra, anzi, sono sicuro, che tanto lei che, mister Katzman, abbiate fatto tutto ciò che era in vostro potere per citare le passioni dei giurati, i pregiudizi dei giurati contro di noi. Io ricordo che mister Katzman ha presentato un test d'accusa a un certo Ricci. Io ho ascoltato quel testimone, sembrava che non avesse niente da dire, sembrava sciocco produrre un testimone che non aveva niente da dire. Sembrava sciocco se era stato chiamato solo per dire alla giuria che era il capo di quell'operaio che era presente sul luogo del delitto e che chiedeva di testimoniare a nostro favore, sostenendo che noi non eravamo tra i banditi. Quell'uomo, il testimone Ricci, ha dichiarato di aver trattenuto l'operaio al lavoro invece di mandarlo a vedere che cosa era successo, dando così l'impressione che l'altro non avesse potuto vedere ciò che accadeva nella strada. Ma questo non era molto importante. Davvero importante è che quell'uomo ha sostenuto che era falsa la testimonianza del ragazzo che riforniva d'acqua alla sua squadra d'operai. Il ragazzo aveva dichiarato di aver preso un secchio e di essersi recato ad una certa fontana ad attingere acqua per la squadra. Non era vero, ha sostenuto il testimone Ricci, e perciò il ragazzo non poteva aver visto i banditi, e non era in grado quindi di provare che né io né Sacco fossimo tra gli assassini. Secondo lui non poteva essere vero che il ragazzo fosse andato a quella fontana perché si sapeva che i tedeschi ne avevano avvelenato l'acqua. Ora, nella cronaca nel mondo di quel tempo, non è mai stato riferito un episodio del genere. Niente di simile è avvenuto in America. Abbiamo letto di numerose atrocità compiute in Europa dai tedeschi durante la guerra, ma nessuno può provare né sostenere che i tedeschi erano tanto feroci da avvelenare una fontana in questa regione durante la guerra. Tutto questo sembrerebbe non aver nulla a che fare con noi direttamente. Sembra essere un elemento casuale capitato tra gli altri che rappresentano invece la sostanza del caso, ma la giuria ci aveva odiati fin dal primo momento perché eravamo contro la guerra. La giuria non si rendeva conto che c'è della differenza fra un uomo che è contro la guerra perché ritiene che la guerra sia ingiusta, perché non odia alcun popolo, perché è un cosmopolita, e un uomo invece che è contro la guerra perché è in favore dei nemici, e che perciò si comporta da spia, e commette dei reati nel paese in cui vive, allo scopo di favorire i paesi nemici. Noi non siamo uomini di questo genere, Katzmann lo sa molto bene, Katzmann sa che siamo contro la guerra perché non crediamo negli scopi per cui si proclama che la guerra va fatta. Noi crediamo che la guerra sia ingiusta, e ne siamo sempre più convinti dopo dieci anni che scontiamo giorno per giorno le conseguenze e risultati dell'ultimo conflitto. Noi siamo più convinti di prima che la guerra sia ingiusta, e siamo contro di essa ancor più di prima. Io sarei contento di essere condannato al patibolo se potessi dire all'umanità state in guardia, tutto ciò che vi hanno detto, tutto ciò che vi hanno promesso era una menzogna, era un'illusione, era un inganno, era una frode, era un delitto. Vi hanno promesso la libertà, dov'è la libertà? Vi hanno promesso la prosperità? Dov'è la prosperità? Dal giorno in cui sono entrato a Charlestown sfortunatamente la popolazione del carcere è raddoppiata di numero. Dov'è l'elevazione morale che la guerra avrebbe dato al mondo? Dov'è il progresso spirituale che avremmo raggiunto in seguito alla guerra? Dov'è la sicurezza di vita? La sicurezza delle cose che possediamo per le nostre necessità? Dov'è il rispetto per la vita umana? Dove sono il rispetto e l'ammirazione per la dignità e la bontà della natura umana? Mai come oggi, prima della guerra, si sono avuti tanti delitti, tanta corruzione, tanta degenerazione. Se ricordo bene, durante il processo Katzmann ha affermato davanti alla giuria che un certo Coacci ha portato in Italia il denaro che, secondo la teoria della pubblica accusa, io e Sacco avremmo rubato a Braintree. Non abbiamo mai rubato quel denaro, ma Katzmann, quando ha fatto questa affermazione davanti alla giuria, sapeva bene che non era vero. Sappiamo già che quell'uomo è stato deportato in Italia dopo il nostro arresto dalla polizia federale. Io ricordo bene che il poliziotto federale che lo accompagnava aveva preso i suoi bauli prima della traduzione e li aveva esaminati a fondo senza trovarvi una sola moneta. Ora, io dico che è un assassinio sostenere davanti alla giuria che un amico o un compagno o un congiunto o un conoscente dell'imputato o dell'indiziato ha portato il denaro in Italia quando si sa che non è vero. Io non posso definire questo gesto altro che un assassinio, un assassinio a sangue freddo. Ma Katzmann ha detto anche qualcos'altro contro di noi che non è vero. Se io comprendo bene, c'è stato un accordo durante il processo con il quale la difesa si era impegnata a non presentare prove della mia buona condotta in Plymouth e l'accusa non avrebbe informato la giuria che io ero già stato processato e condannato in precedenza a Plymouth. A me pare che questo fosse un accordo unilaterale. Infatti, al tempo del processo di Dedham, anche i pali telegrafici sapevano che io ero stato processato e condannato a Plymouth. I giurati lo sapevano anche quando dormivano. Per contro, la giuria non aveva mai veduto né Sacco né me e io penso che sia giusto dubitare che nessun membro della giuria avesse mai avvicinato prima del processo qualcuno che fosse in grado di dargli una descrizione sufficientemente precisa della nostra condotta. La giuria non sapeva niente dunque di noi due. Non ci aveva mai veduto. Ciò che sapeva erano le cattiverie pubblicate dai giornali quando fummo arrestati e il resoconto del processo di Plymouth. Io non so per quale ragione la difesa avesse concluso un simile accordo, ma so molto bene perché lo aveva concluso Katzmann. Perché sapeva che metà della popolazione di Plymouth sarebbe stata disposta a venire in tribunale per dire che in sette anni vissuti in quella città non ero mai stato visto ubriaco, che ero conosciuto come il più forte e costante lavoratore della comunità. Mi definivano il mulo e coloro che conoscevano meglio le condizioni di mio padre e la mia situazione di scapolo si meravigliavano e mi dicevano ma perché lei lavora come un pazzo se non ha né figli né moglie di cui preoccuparsi. Katzmann poteva dunque dirsi soddisfatto di quell'accordo, poteva ringraziare il suo dio e stimarsi un uomo fortunato, eppure egli non era soddisfatto. In Franze la parola data e disse alla giuria che io ero già stato processato in tribunale. Io non so se ne è rimasta traccia nel verbale, se è stato omesso oppure no, ma io l'ho udito con le mie orecchie. Quando due o tre donne di Plymouth vennero a testimoniare, appena la prima di essere aggiunse il posto dove è seduto oggi quel gentiluomo, la giuria era già al suo posto. Katzmann chiese loro se non avesse già testimoniato in precedenza per Vanzetti. E alla loro risposta affermativa replicò voi non potete testimoniare. Esse lasciarono l'aula, dopodiché testimoniarono ugualmente, ma nel frattempo egli disse alla giuria che io ero già stato processato in precedenza, e con questi metodi scorretti che egli ha distrutto la mia vita e mi ha rovinato. Si è anche detto che la difesa avrebbe frapposto ogni ostacolo pur di ritardare la prosecuzione del caso. Non è vero, e sostenerlo è oltraggioso. Se pensiamo che l'accusa, lo Stato, hanno impiegato un anno intero per l'istruttoria, ciò significa che uno dei cinque anni di durata del caso è stato preso dall'accusa solo per iniziare il processo, il nostro primo processo. Allora la difesa fece ricorso a lei, giudice Tyer, e lei aspettò a rispondere, eppure io sono convinto che aveva già deciso. Fin dal momento in cui il processo era finito, lei aveva già in cuore la risoluzione di respingere tutti gli appelli che le avremmo rivolti. Lei aspettò un mese o un mese e mezzo giusto per rendere nota la sua decisione alla vigilia di Natale, proprio la sera di Natale. Noi non crediamo nella favola della notte di Natale, né dal punto di vista storico, né da quello religioso. Lei sa bene che parecchie persone del nostro popolo ci credono ancora, ma se noi non ci crediamo, ciò non significa che non siamo umani. Noi siamo uomini e il Natale è dolce al cuore di ogni uomo. Io penso che lei abbia reso nota la sua decisione la sera di Natale per avvelenare il cuore delle nostre famiglie e dei nostri cari. Mi dispiace dire questo, ma ogni cosa detta da parte sua ha confermato il mio sospetto fino a che il sospetto è diventato certezza. Per presentare un nuovo appello in quel periodo, la difesa non prese più tempo di quanto ne avesse preso lei per rispondere. Ora non ricordo se fu in occasione del secondo o del terzo ricorso, lei aspettò undici mesi o un anno prima di risponderci e io sono sicuro che aveva già deciso di rifiutarci un nuovo processo prima ancora di consultare l'inizio dell'appello. Lei prese un anno per darci questa risposta o undici mesi, cosicché appare chiaro che alla fine dei cinque anni due se li prese lo Stato. Uno trascorse dal nostro arresto al processo, l'altro in attesa di una risposta al secondo o al terzo appello. Posso anzi dire che se vi sono stati ritardi essi sono stati provocati dall'accusa e non dalla difesa. Sono sicuro che se qualcuno prendesse una penna in mano e calcolasse il tempo preso dall'accusa per istruire il processo e il tempo preso dalla difesa per tutelare gli interessi di noi due scoprirebbe che l'accusa ha preso più tempo della difesa. C'è qualcosa che bisogna prendere in considerazione a questo punto ed è il fatto che il mio primo avvocato ci tradì. Tutto il popolo americano era contro di noi e noi abbiamo avuto la sfortuna di prendere un secondo legale in California. Venuto qui gli è stato l'ostracismo da voi e da tutte le autorità, perfino dalla giuria. nessun luogo del Massachusetts era dunque rimasto immune da ciò che io chiamo il pregiudizio, il che significa credere che il proprio popolo sia il migliore del mondo e che non ve ne sia un altro degno di stargli alla pari. Di conseguenza l'uomo venuto dalla California nel Massachusetts a difendere noi due doveva essere divorato se era possibile e lo fu e noi abbiamo avuto la nostra parte. Ciò che desidero dire è questo. Il compito della difesa è stato terribile. Il mio primo avvocato non aveva voluto difenderci, non aveva raccolto testimonianze né prove a nostro favore. I verbali del tribunale di Plymouth erano una pietà. Mi è stato detto che più di metà erano stati smarriti, così che la difesa aveva un tremendo lavoro da fare per accogliere prove e testimonianze, per apprendere quel che i testimoni dello Stato avevano sostenuto e controbatterli. E considerando tutto questo si può affermare che se anche la difesa avesse preso doppio tempo dello Stato, ritardando così il caso, ciò sarebbe stato più che ragionevole. Invece, purtroppo, la difesa ha preso meno tempo dello Stato. Ho già detto che non soltanto non sono colpevole di questi due delitti, ma non ho mai commesso un delitto in vita mia, non ho mai rubato, non ho mai ucciso, non ho mai versato una goccia di sangue e ho lottato contro il delitto. Ho lottato sacrificando anche me stesso per eliminare i delitti che la legge e la Chiesa ammettono e santificano. Questo è ciò che volevo dire. Non augurerei a un cane o a un serpente, alla più miserevole e sfortunata creatura della terra, ciò che ho avuto a soffrire per colpe che non ho commesso. Ma la mia convinzione è un'altra, che ho sofferta, che ho sofferto per colpe che ho effettivamente commesso. Sto soffrendo perché sono un radicale, e in effetti io sono un radicale. Ho sofferto perché sono un italiano, e in effetti io sono un italiano. Ho sofferto di più per la mia famiglia e per i miei cari che per me stesso, ma sono tanto convinto di essere nel giusto, che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte, e per due volte io potessi rinascere, vivrei di nuovo per fare esattamente ciò che ho fatto finora. Ho finito. Grazie.